Buon pomeriggio e ben trovati al consueto appuntamento pomeridiano con le notizie dal web della città edizione culturale. Vediamo subito che cosa ci riserva la serata. Cominciamo con la musica, in particolare con l'opera lirica. Vi parliamo del Parsifal di Richard Wagner in scena al Teatro Reggio alle 18 questa sera. Un'opera celeberrima sul libretto di Richard Wagner dal romanzo Parsifal di Wolfram von Eisenbach. Continuiamo con Il colore dei soldi, un altro film all'interno della resegna su Martin Scorsese, proiettato questa sera al Cinema Massimo alle 18.30, Il colore dei soldi, nell'ambito appunto della traspettiva intitolata American Stories. Questa sera si recita a soggetto uno spettacolo di Luigi Pirandello che chiude la trilogia del Teatro nel Teatro, messa in scena da Virginio Liberti, questa sera alla Cavallerizza Reale alle 20.45. Finiamo come sempre con la letteratura, il pensiero politico contemporaneo, libertà, diritti, democrazia, un gruppo di lettura su testi di Gustavo Zagrebelsky, Amartya Senna e Marco Rebelli alla Biblioteca Civica Primo Levi alle 17.15. Per questo oggi è tutto, ringrazio Paolo Mosso, ci vediamo domani alle 16.15, vi auguro una buona serata. Grazie a tutti.